Siamo nel cuore dell'agropontino, qui vicino a noi abbiamo il canale Mussolini e oggi vogliamo parlarvi di un prodotto tipico di questo territorio arrivato negli anni 90 per scelta di molti agricoltori e molti contadini. Parliamo del kiwi, in particolare oggi parleremo del kiwi giallo e lo faremo con la famiglia Bressan che è qui sul territorio da tantissimi anni. Siamo con Silvano Bressan, titolare di questa azienda. Silvano, raccontaci la storia di questa grande famiglia arrivata qui durante la bonifica dell'agropontino. Sì, i miei nonni sono venuti qui dal Veneto e hanno preso il potere della bonifica, hanno diviso il terreno tra i due fratelli, mantenevano un allevamento di bestiame, facevano bestiame agricoltura per cocomeri in particolare e siamo andati avanti con la produzione di cocomeri negli anni 80. Sempre migliorando, dopo siamo andati a produrre anche una piantagione di kiwi giallo, G3 per Zespri. Esatto, come mai questo cambiamento di questo passaggio, che è anche un passaggio abbastanza epocale per questo territorio, dalla coltivazione del cocomero, prodotto tipico degli anni 80, al kiwi invece che è stato introdotto negli anni 90? Negli anni 90 anche per cambiare cultura, avere diversità sull'azienda perché solo un prodotto non entravi nei mercati e quindi avere anche diversità di prodotto. E perché la scelta del kiwi giallo? C'è piaciuto più il kiwi giallo sul fatto di un'organizzazione Zespri molto votata mondiale sulla vendita e quindi siamo partiti con questo kiwi giallo. Siamo a settembre, il mese sta per finire e siete in piena raccolta di questo prodotto. Come sono le fasi di lavorazione? Mi dicevi sono molto veloci anche. Molto veloci e devi essere molto tempestivo. Dalla fioritura devi essere tempestivo a sistemare i fiori, a diradare. Poi lo stesso, il diradto del frutto perché devi fare un frutto perfetto. Ci deve essere nel piccolo, nel piatto, nel rovinato e quindi quando devi entrare devi essere tempestivo sia sulla fioritura che sul diradto e anche sul raccolto perché quando fanno analisi sul prodotto, quando è pronto devi essere tempestivo anche sulla raccolta. Ringraziamo Silvano e l'azienda agricola Bressan di Latina e buon raccolto allora. Grazie.